Il rapporto tra il commissario scuro e i sindacati è sempre stato complicato, ma quanto successo ieri lo rende anche a tratti paradossale. Dopo un lungo e ossico incontro si è arrivati ad un accordo in merito all'annosa questione dell'inserimento e della stabilizzazione degli infermieri, ma fermare l'accordo non sono state le sigle confederali che hanno invece lasciato l'aula, ma quelle autonome, ossia quelle che di solito maggiormente raccolgono gli anatemi del commissario, come aveva rivelato per ultimo il carteggio tra Scura e il direttore generale Fattarella, invitato a non incontrare i sindacati autonomi. Ieri invece l'accordo ha vallato solo da Nursing Up, FIAS, CSI e Nursing, mentre CGL, CISLE e GUIL non hanno firmato e sono andati via. Il documento sottoscritto prevede che entro 30 giorni le aziende sanitarie ospedaliere stabilizzino 260 precari del comparto, altri 180 invece saranno quelli presi dalla graduatoria del 2009, 200 infine saranno selezionati tramite il concorsone e con l'avvio delle procedure di mobilità. E non si esclude che anche gli ex dipendenti della Fondazione Campanella possano così trovare collocazione. Dura e provocatoria la reazione di Scura a quanto accaduto. Quello che noi abbiamo proposto, ha detto, era non solo ragionevole, ma perfettamente nell'interesse dei lavoratori. Prendiamo atto che CGL e CISLE e GUIL non hanno voluto che si facesse la stabilizzazione. Tiziana Bagnato per la CNews24.